il senso di tema è sempre buon senso sempre buon senso con tanta educazione lui si chiama come amulio e lui si chiama anso anso come è tuo amulio? è quello è quello questo è il peruccio è quello più carino è quello che lo dejo di grande è quello che lo dejo di grande è quello che si chiama anso